Sette comuni e una scuola media, quella di Santa Maria Maggiore. Il tema del trasporto scolastico in Valle Vigezzo è approdato in Consiglio Comunale a Re, sollecitato dai gruppi di minoranza, che a tal proposito avevano presentato una specifica interpellanza. Un argomento alquanto delicato, lo sanno bene sia la maggioranza che le opposizioni. Ad inizio anno scolastico alcuni studenti hanno infatti rischiato di rimanere a piedi a causa del numero limitato di posti del polmino del comune di Truogno, con cui è stato seglato un accordo. Un pericolo che alla fine in estremis è stato scongiurato. Al momento il trasporto viene garantito, in aggiunta da un polmino dell'Unione Montana a Vigezzina. Il sindaco Oreste Pastore si è infatti battuto per trovare una soluzione, e così hanno fatto pure le minoranze. Queste ultime però invitano l'amministrazione a muoversi per tempo, per evitare l'anno prossimo di dover affrontare nuovamente questa emergenza. Al Consiglio Comunale di Re erano presenti anche diverse mamme, che hanno rivolto al consigliere un invito chiaro e preciso. I nostri figli, hanno detto, devono avere gli stessi diritti di quelli degli altri paesi. Occorre una volta per tutte parlare, almeno su questo tema, con un'unica voce, quella della Valle Vigezzo. Una richiesta non da poco. Il problema è infatti quello della morfologia del territorio. Alcuni paesi della Valle dei Pittori sono anche serviti dal treno, altri no. Per questo non sarà facile pensare ad un unico sistema di trasporto scolastico. La questione dovrà però essere affrontata, a una volta per tutte, come chiedono le mamme, a livello di valle. Come dire, le scelte spettano agli amministratori, ma ad andarci in mezzo non devono essere sempre loro, gli studenti. Come dire, le scelte spettano agli amministratori, ma ad un'unico sistema di trasporto scolastico, ma ad un'unico sistema di trasporto scolastico, ma ad un'unico sistema di trasporto scolastico. Grazie a tutti.